buongiorno 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 stamattina nonostante il clima stiamo preparando un arrosto di maiale erbe e pecorino allora rosmarino timo origano alloro una montagna di pecorino e qualche spicchio d'aglio tra poco in preparazione allora pronti per la faccia abbiamo aggiunto l'aglio alle erbette il pecorino è pronto in più oltre a un po di buccia di limone abbiamo aggiunto giusto un giro di pepe vedete siamo pronti ci siamo è pronto insomma dire che è bello è poca cosa tra poco in forno adesso è veramente pronto e ce n'è per tutti non lo perdete lo so voi direte che esagerazione ma la rosso di maiale al forno chiama le patate ci mettiamo la novella in modo che sia un po più fresca gli abbiamo aggiunto lo stesso giro di pepe e le zeste di limone vedete tra poco ci aggiungo gli aromi che abbiamo farcito la rosso di maiale e siamo pronti lo so sono di parte ma ditemi voi se questo non è un quadro alla fine questo matrimonio si farà anzi questo matrimonio sa da fare allora siamo a buon punto però adesso ci fermiamo qua perché altrimenti monopolizziamo il video questo matrimonio si farà e se volete partecipare non vi resta che prenotare